Il capitale umano è una iniziativa promossa da soggestioni che ha l'obiettivo di mettere in contatto studenti o laureandi di università specialmente di indirizzi economici giuridici con le diverse società di gestione del risparmio. Io grazie a IQ ho avuto la possibilità di conoscere Invesco, in particolare attraverso una presentazione della società svolta nell'Università Cattolica. Ho svolto poi successivamente uno stage nel team di client service, che è il team operativo rivolto specialmente al rapporto col cliente. L'industria del risparmio gestisce oltre 2.000 miliardi di euro ed ha perciò un ruolo rilevante all'interno della crescita economica e sociale del nostro paese. Consiglierei di partecipare ad IQ perché in questo modo si ha la possibilità di vedere potenziali ambiti sconosciuti all'interno del mondo universitario. Prima di IQ pensavo di avere più una preparazione che mi concentrasse sull'ambito tecnico. Dopo il mio stage ho capito anche che ci sono ambiti riguardanti principalmente l'attività giuridica che possono essere comunque interessanti e inerenti al nostro settore. Credo che questa esperienza sia un buon punto di inizio perché mi ha permesso di capire quali sono le diverse realtà operanti nelle società di gestione del risparmio. In questo modo quindi ho un'idea più concreta di quello che è il settore marketing, il settore commerciale e anche ovviamente client service.